venite a trovarci nel nostro showroom ti regna auto la piattaforma dell'auto la capese ha compiuto 99 anni e l'entusiasmo della tifoseria è stato tale che questi 99 anni fossero portati più che bene in occasione della partita con i calciatori della squadra attuale e le vecchie glorie giocata al simonetta lamberti motivo principale della serata è stato comunque la solidarietà con i proventi dell'iniziativa che verranno devoluti in beneficenza alla famiglia della piccola isabella la bambina affetta da una malattia che necessita cure costosissime per essere debellata anche la stessa squadra della cavese ha deciso a sua volta di fare un'offerta per aiutare isabella dopo il quadrangolare tra i bambini delle scuole calcio cavesi intorno alle 19 e 30 passate sono scesi in campo i giocatori della cavese attuale e anche gli ex aquilotti e si sono affrontate tra loro le due squadre la partita è stata preceduta dal volo dell'aquila una scena che siamo stati abituati a vedere poco a lamberti si sono visti tra gli altri sketter alfano ercolano tatomir arno cipriani e aquino tra i protagonisti dell'ultimo primo posto quello del 2006 c'erano anche alcuni pilastri del campionato di serie di vinto l'attaccante prisciandaro il terzino colucci e i centrocampisti de rosa carafa e piemonte presenti anche alfano marzullo luigi palumbo cosmo palumbo ciro manzi calciatori tutti in attività altri ex aquilotti erano il portiere stefano ambrosi apparso in forma smagliante nonostante abbia peso le scarpe al chiodo da qualche anno e il fratello sandro ex attaccante che nella cavese di fine anni 90 era deputato a fare gol anziché a evitarli anche ciro